BHAVAGAD GHITA Nella BHAVAGAD GHITA si legge Tutto l'universo è intessuto nel Signore, come le perle in un filo. Non è un concetto simile a quello dei maestri immateriali per cui l'assoluto attraversa il tutto? Commento Non a caso è un concetto simile, perché la spiritualità orientale ha preceduto di molti secoli quella occidentale. La meditazione, che da sempre è il contatto dell'Oriente con i piani superiori di esistenza, è stata ed è quella che per l'Occidente è la medianità.